Amici bentornati a questo nuovo appuntamento con Progresso qui a Carmagnola, accanto a me come sempre Roberto Terranova, come stai? Bene Cesare, un bel ritrovato a tutti. Allora vediamo in questi giorni la grande campagna Fiat Incentivi. Esatto, Fiat anticipa gli incentivi governativi, quindi approfittate già da subito perché comunque con Fiat e con noi praticamente vi facciamo fare degli affari strepitosi. Veniteci a trovare. Ricordiamo l'indirizzo. Siamo in via Poirino 6 Carmagnola, praticamente attaccati al centro di Carmagnola. Lancia Y, 1.2 benzina, completa di impianto GPL, a partire da 4.900 euro. Punto Evo, 1.3 multijet, 95 cavalli, euro 5, 5 porte. La nostra richiesta è di 9.900 euro. Punto Classic, 1.2, 5 porte, 4.900 euro, completa di impianto GPL. Panda, a partire da 3.900 euro, 1.2 benzina. 500, anche qui abbiamo l'imbarazzo della scelta, a partire da 7.900 euro. Nella fattispecie vediamo un 1.3 multijet, 95 cavalli, la nostra richiesta è di 11.900 euro. Subaru Impreza ST, 300 cavalli di potenza, trazione integrale. Venite a scoprire il prezzo. Mito, 1.6 multijet, allestimento Distinctive. Ne abbiamo a partire da 9.900 euro. Jaguar S-Type, 2.7 V6, turbodiesel. La nostra richiesta, pensate, è di 10.900 euro, completa di 12 mesi di garanzia, cambio automatico, navigatore, pelle e un full optional. Lancia Delta 1.4 turbo, benzina con impianto GPL. La nostra richiesta, pensate, è di 10.400 euro. Doblò 1.6 Dynamic, euro 5, 105 cavalli. Pensate, la nostra richiesta è soltanto di 11.900 euro. Idea 1.4 benzina con impianto GPL. La nostra richiesta è di 6.900 euro. DR 5, 1.9 turbodiesel. La nostra richiesta, 8.900 euro. Seat Altea 1.9 turbodiesel, allestimento Stylance. Pensate, la nostra richiesta è soltanto di 8.900 euro. I chilometri solo 64.000 originali, 12 mesi di garanzia. Fiat Cubo 1.3 multijet, allestimento Dynamic. 50.000 i chilometri sono originali, naturalmente. La nostra richiesta è di 10.500 euro. Sion Rexton 2007 XD, quindi un turbodiesel full optional, quindi dalla trazione integrale agli interni in pelle. Pensate, la nostra richiesta è soltanto di 9.900 euro, compreso 12 mesi di garanzia. Opel Astra 1.6 turbo, 180 cavalli. Del 2009, 6.900 euro. Nuova Panda 1.2 benzina, a partire da 8.900 euro. E anche per oggi è tutto, però ricordiamo ancora l'indirizzo, Roberto. Siamo appunto in Via Poirino 6 a Carmagnola. Veniteci a trovare perché, come dicevamo in apertura, Fiat anticipa quelli che sono gli incentivi governativi. Quindi veniteci a trovare perché facciamo degli affari veramente eccezionali. Grazie, buon lavoro. Grazie, buon lavoro.